C'è mi mamma, c'è mi mamma, c'è mi mamma. Hanno scaldato la voce, ripreso gli strumenti in mano e sono tornati nuovamente a far sentire la loro protesta a suon di musica con un flash mob che ha visto a livello nazionale scendere in strada studenti ed insegnanti dei vari licei musicali. Sono oltre 30 le città dove ci sono i licei musicali e la protesta per contestare in qualche modo le scelte del Ministero per il reclutamento, per l'accesso del personale insegnanti di musica nei licei musicali perché appunto questa intenzione di mettere tutti gli insegnanti vincitori di concorso si parla di scuola del merito però credo che il merito sia importante anche a chi l'ha acquisito il merito lavorando per anni nei licei musicali. La manifestazione ad Arezzo non poteva che svolgersi in Piazza Grande, scenario naturale dell'istituto scolastico. Si tratta in realtà di una ridiscesa in campo degli insegnanti e degli alunni dopo la protesta davanti alla prefettura di alcune settimane fa culminata con la consegna di un documento da inoltrare al governo. Alla base della protesta l'imminente metamorfosi che potrebbero subire i licei musicali con l'immissione di nuove forze in arrivo dai concorsi ai quali non potranno però partecipare gli insegnanti storici dell'istituto. Con l'esecuzione dei decreti attuativi della riforma alla buona scuola infatti il rischio è quello di perdere alcuni insegnanti di strumento, pilastri, danni del liceo. È un'eccellenza italiana perché negli anni abbiamo maturato un'esperienza e soprattutto anche perché noi siamo entrati con un reclutamento dei docenti dei conservatori e questo a mio avviso ha fatto la differenza perché abbiamo tutti un'attività scientifica e artistica di altissimo livello e abbiamo scelto di rimanere ad Arezzo. Non è stato un risultato così casuale. Abbiamo voluto rimanere in questo liceo e dargli la grande qualità. Grazie. 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 Grazie.